Pronto? Ciao Nio, sai con chi parli? Orfeus Chi sta venendo da me? Cos'adesso? Cazzo Che vogliono da me? Non lo so, se non vuoi scoprirlo ti suggerisco di andartene da lì E come? Su guidarti, ma devi fare esattamente quello che ti dirò Va bene Il box davanti a te è vuoto Sì, ma se... Ora Resta fermo lì un momento Al mio segnale Lascia la sala Entra nell'ufficio in fondo al corridoio Muoviti abbassandoti più che puoi Va, ora Bene Adesso Fuori dalla finestra c'è un'impalcatura E tu come lo sai? Non c'è tempo Nio La finestra è alla tua sinistra Avvicinati Aprila Vuoi usare il ponteggio per arrivare sul te No, no, non se ne parla Tu sei pazzo Ci sono due modi per uscire da questo edificio Uno è grazie al ponteggio L'altro è in stato di arresto Corri comunque a un rischio Sta a te decidere Ma guarda che situazione Perché proprio a me? Che cosa ho fatto? Non sono nessuno Non ho fatto niente Qui c'è resto secco Accidenti Accidenti Io non ce la faccio Ma guarda che c'è Grazie a tutti